Per adesso abbiamo raccolto già delle segnalazioni di una buona annata, un'annata perlomeno nella media che in qualche modo sta dando soddisfazione un po' a tutti i risicoltori della nostra provincia. Consideriamo che su tutta la regione Sardegna vengono coltivati 3.500 etari circa a riso, di questi 3.500 la maggior parte, poco più di 3.000, si trovano sul territorio oristanese. Quindi rispetto alle annate precedenti, anche dal punto di vista qualitativo, c'è grande soddisfazione. Poi è chiaro che, ripeto, ancora siamo nella fase iniziale, dobbiamo ancora attendere per avere dati certi, però sembra davvero una buona annata. Dal punto di vista del consumo pro capite, però, possiamo dire che noi rispetto al resto d'Italia siamo un attimino indietro, perché soprattutto nel nord Italia c'è un consumo di circa 5-6 kg a persona e noi invece ci attestiamo sui 2-6, 2-7. Quindi l'invito è sicuramente quello di andare a consumare naturalmente più riso nell'interesse di tutti quanti anche i risicoltori oristanesi.